Questa data è importante perché inizierà dopo la morte di Giulio Cesare la guerra civile. In quella data viene ucciso Giulio Cesare con 23 coltellate, 60 o 80 senatori congiorano contro Giulio Cesare che quando arriverà in senato verrà coltellato a sangue freddo, verrà ucciso e inizierà così una guerra civile tra le persone che avevano appoggiato Giulio Cesare durante la sua vita e tutte le persone che lo avevano ucciso, che lo consideravano un nemico della Repubblica. Ciao, al prossimo video, vi aspetto!